Ho riletto stasera, che è domenica e nevica, la bottega del caffè di Goldoni e ne parliamo qualche minuto insieme. La bottega del caffè è una delle commedie più belle di Goldoni. Immaginatevi una piazza di Venezia, c'è una bottega di caffè che apre di primo mattino, pronti con il buon aroma ad accogliere gli ospiti. Ecco che arrivano, prima di tutto, Don Marzio, Don Marzio è uno sfaccendato, un nobile napoletano che passa la sua giornata a impicciarsi degli affari degli altri, a fare pettegolezzi e chiacchiere, spesso a mettere in giro proprio malignità gratuite su tutte le persone che si muovono per la piazza. Egli godi a impicciarsi degli affari degli altri, crede di aver sempre ragione e continua a mettere zizzania dappertutto. gli si contrappone il padrone della bottega del caffè, il buon Ridolfo. Ridolfo è un uomo invece che incarna i valori positivi del borghese, cioè è orgoglioso del suo lavoro onesto, è se può pronto a dare una mano agli amici e anche a far del bene perché gli dice che lui ha due grandi tesori nella vita, il suo lavoro e la sua reputazione. Bene, di fronte alla piazzetta, su cui si apre anche la casa di una bella ballerina, l'Isaura, di fronte alla piazzetta c'è una locanda, la bottega del barbiere e una bisca e da questa bisca di prima mattina esce Eugenio. Eugenio è il figlio di un vecchio padrone a cui Rinaldo era rimasto affezionato, Rinaldo aveva servito questo padrone e aveva un buonissimo ricordo di lui. E quindi Eugenio che si sta rovinando la vita con i debiti del gioco è a cuore a Ridolfo che si strugge nel vederlo buttare via il matrimonio e le sue sostanze nel gioco d'azzardo. Eugenio ha perso molti soldi quella notte, è disperato e non sa come pagare a Leandro il debito. Don Marzio tra l'altro non sta nella pelle nel dire a destra e a manca che ha già lui stesso prestato dieci zecchini per coprire un debito allo stesso Eugenio che ha dato in garanzia gli orecchini di sua moglie e quindi ovviamente Don Marzio non fa che diffondere questo pettegolezzo che Eugenio ha scoperto, è rovinato, che ha rubato i gioielli della moglie pur di coprire dei debiti. Bene, Ridolfo preoccupato perché appunto Don Marzio sta rovinando le reputazioni di Eugenio e preoccupato per i debiti che sta accumulando decide di aiutarlo e si propone contrapponendosi al Pandolfo che è il capo della bisca e che vorrebbe approfittare ulteriormente della situazione di debito di Eugenio proponendosi come mezzano, sensale, mediatore per impadronirsi delle stoffe, Eugenio è un mercante di stoffe, delle stoffe preziose che potrebbero appunto dare un buon guadagno e coprire la perdita del gioco. Dicevo, Ridolfo si propone lui di vendere onestamente le stoffe e chiede a Eugenio di fidarsi di lui. Lui non vorrà la percentuale della mediazione degli affari, lo farà solo per coprire quanto prima il debito, prima che scoppi uno scandalo, prima che si sapere e cerca nello stesso tempo di far ragionare Eugenio, di staccarlo dal gioco, di fargli capire che deve smetterla con la bisca. Ma Eugenio non gli da retta, continua non appena ha i soldi per coprire il debito, subito si fa riprendere dalla mania del gioco e torna in la bisca a perdere altri soldi. Tanto che Ridolfo tenta inizialmente di trattenere un po' del denaro che ha guadagnato vendendo onestamente la stoffa ad Eugenio, perché Eugenio non si gioca immediatamente tutto. Bene, si contrappongono dunque Ridolfo, onesto e amico di Eugenio, che cerca di tirarlo via, e Pandolfo, il biscaziere, che nella sua bisca ha interesse che tutti perdano soldi e che dichiara apertamente di infischiarsene se la vita dei suoi clienti va a rotoli. C'è un altro infatti giocatore, quello che momentaneamente ha vinto con Eugenio, che è Leandro, che si spaccia per un conte, in realtà è un altro borghese che, preso dalla smania di farla bella vita, ha abbandonato la moglie a Torino ed è venuto a Venezia a spassarsela. Bene, nel corso del secondo atto arrivano infatti sia la moglie di Eugenio, che è Vittoria, che vergognandosi di andare a cercare il marito che non è rientrato la notte, si è messa una maschera di carnevale, e Placida, la moglie abbandonata da Leandro, il vero nome è Flaminio, che da Torino viene a cercarlo in veste di pellegrina. Ecco, Don Marzio vede arrivare queste donne ed egli, nel suo pensar male di tutti, nella sua mentalità estremamente maligna, pensa che tutte le donne siano venali, che tutte siano prostitute, a cominciare dalla ballerina Lisaura per poi passare alla pellegrina Placida e fino alla moglie Vittoria. È estremamente sgradevole, maligno, mette in giro un sacco di voci. A Vittoria, per esempio, subito dice che il marito ha impegnato i suoi orecchini. Alisaura, che si affaccia alla finestra da casa sua, fa insinuazioni molto pesanti, che offendono la ballerina. È vero, la ballerina in questo momento, in quei giorni, aveva una relazione con Lisandro, ma pensava di sposarlo, non sapeva che Lisandro era già sposato, era a Venezia sotto falso nome. Quindi vedete quanti intrecci? È una commedia di grande movimento, di grande intreccio. Bene, cosa succede? Che proprio mentre Lisandro e Eugenio, dunque, sono tornati nel pieno della giornata a giocare nella bisca e hanno ordinato un pranzo che si svolge sopra la sala do gioco, ecco che arrivano, dunque, scena le due mogli. Vittoria, che già appunto ha saputo della nottata e delle perdite del marito e che è disperata, e Placida, che inizialmente accompagnata dalla locanda da Eugenio, sente tra le voci del pranzo che si svolge sopra la sala da gioco, sente la voce del marito e lo riconosce. E avviene dunque il riconoscimento finale. Ovviamente Elisaura, che capisce che Leandro l'ha ingannata, lo butta fuori di casa. Leandro, se la prende con la moglie che l'ha smascherato, vorrebbe anche ucciderla e, insomma, se ne vuole andare, anche perché Don Marzio, come abbiamo detto, mette zizzania tra le coppie. E Ridolfo, invece, che cerca di ricucire. Il nostro barista, il nostro personaggio positivo, il borghese della bottega del caffè, Ridolfo, non solo cerca di riappianare i debiti di Eugenio, ma cerca di fargli far pace con la moglie. E, saputo e vista la scenata tra Flaminio, cioè Leandro, insomma, e la moglie Placida che l'ha ritrovato, anche lì decide di fare del bene e cerca di far ragionare il marito che ha tradito questa poveretta per riappacificarli. Ebbene, Ridolfo riuscirà a far rimettere insieme marito e moglie nel rispetto di questi matrimoni, riuscirà a far ravvedere i mariti e riuscirà a rabbonire e disporre al perdono le mogli. E che fine faranno, invece, Pandolfo e Don Marzio? Il chiacchierone Don Marzio e il biscazziere Pandolfo? Beh, Pandolfo, che è tenuto d'occhio dalla polizia, finirà arrestato proprio per una ennesima spifferata di Don Marzio, che non sa tenere la bocca chiusa. E quindi, se può dir male, se può tirar fuori qualunque pettegolezzo lo fa. Lo fa inconsapevolmente ad un poliziotto in borghese, questa confidenza, questa spacconata del sapere cosa succede nella casa da gioco. E quindi Pandolfo verrà arrestato. E Don Marzio, scoprendosi alla fine tutti i suoi intrighi e tutte le maldicenze che avevano messo in difficoltà, diciamo, le relazioni dei matrimoni, che avevano rovinato la reputazione degli uomini giocatori, che avevano messo in dubbio l'onestà delle donne, smascherato in tutte le sue calunnie, verrà cacciato via dalla bottega del caffè e deciderà di andarsene da Venezia stessa, dove appunto non sarà più bene accolto. Cos'altro dobbiamo dire? Beh, a parte questa figura di Ridolfo, del padrone della bottega del caffè, che sa trattare con tutti, che per tutti ha una buona parola, che sa trovare delle soluzioni, che si prende a cuore le persone e che tratta tutti con rispetto, ma senza servilismo. Sa stare al suo posto, ma è padrone della sua locanda e non della sua bottega del caffè, volevo dire, scusate, e non diventa mai un, come dire, non scende mai la piaggeria, non diventa mai servile per lusingare i suoi clienti, ma dice la verità, nei modi giusti, con rispetto, ma sempre, no, con dignità. Ecco, abbiamo anche da aggiungere che è una commedia di grande movimento. Abbiamo detto gli intrecci, abbiamo visto queste mogli che sottomentite spoglie vanno a cercare i mariti. Abbiamo detto che lo stesso marito, Leandro, con un colpo di scena si scoprirà essere scappato dalla moglie e aver ingannato la ballerina Lisaura. Insomma, un sacco di intrecci anche metateatrali, dove ci sono travestimenti, false identità, eccetera. Ma è anche una commedia di grande movimento, dove vedete correre continuamente camerieri che portano caffè. Caffè, caffè, urlano tutti e arrivano le chicchere aromatiche. Dalla locanda schiere di camerieri portano le pietanze dentro la sala di gioco. È una commedia di grande movimento, di grande anche coreografia. Si aprono e si chiudono le finestre, si affacciano le donne dai piani superiori, si guardano male, si sbattono porte in faccia, scenate e quasi violente da tragedia tra mariti e moglie e tra innamorati. Ecco, è una commedia di grande grande vivacità teatrale. Buona serata, leggetevi la commedia del caffè.